buonasera a tutti amici di vanilla spero state bene io vi saluto qui dalla casa vanilla in in grecia oggi affrontiamo un argomento direi alquanto complesso ovvero la questione dei delatori coloro i quali denunciarono gli ebrei nazisti perché lo affrontiamo perché due degli ultimi video che ho fatto ovvero gli italiani che vendettero ebrei nazisti e ans von beick la donna ebrea che vendette i suoi compatrioti ma anche le persone della sua famiglia a gli ufficiali della ss sostanzialmente hanno fatto hanno generato un grandissimo numero di commenti e sono stati visti da circa 200 mila persone e quindi credo che andare a discutere di questo argomento sia parecchio interessante un aspetto della storia che ho visto è pieno di sfaccettature io oggi farò faremo divideremo la live in due parti circa ovvero leggerò rileggerò gli articoli per chi non li ha letti e poi dopo andremo a vedere tutti i commenti che avete fatto e li leggo perché penso che chi è qui in live stasera possa avere più o meno visto tutti quanti il video però ce ne saranno sicuramente tanti altri che non li hanno visti e quindi voglio andare a leggerli per tutti e poi la discussione sarà sui vostri commenti che mi fate in chat e i vostri commenti che sono stati fatti direttamente sotto i video quindi direi che possiamo cominciare faccio 23 saluti veloci 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 la modalità dei commenti è solo iscritti ho visto per adesso un commento si possono commentare soltanto gli iscritti inutile fare una catervata di commenti senza fine che non riesco più a leggere ma voglio che chi commenta sia iscritto peraltro siamo quasi alla fine dell'anno stiamo crescendo molto bene domani arriveremo a 228 mila iscritti io sono molto contento di venire la magazine per come sta crescendo ho tentato di migliorare la qualità dei video vorrei iniziare a crescere ancora un po di più e perché penso che so che gli argomenti che trattiamo qui non sono proprio più mainstream nel senso che non tutti possono essere interessatissimi a ciò che accade a lorenzino de medici ma nel xvi secolo oppure a ad affare vorrei anticiparvi qualcosa del video di domani che secondo è molto significativo non è un video allegro lo lo annuncio prima quindi non lo sto dicendo con leggerezza però sono dei fatti accaduti tanto 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 tempo fa non collidono più con la realtà dei di tutti noi quindi è difficile per noi fare tanti iscritti ma mi piacerebbe mi piacerebbe perché penso che vanilla sia un progetto che a chi piace piace davvero tanto e quindi dai proviamo arrivare almeno vicino ai 250 mila per la fine di queste festività 2021 2022 sono rosso arancio perché ho preso un sacco di sole oggi oggi ho fatto una giornata a calamata di passeggio eccetera c'era un sole che spaccava le pietre e quindi mi sono veramente abbronzato bene dunque vi grazie a tutti per i complimenti saluto tutti quanti quelli che sono qui adesso giuseppe morris valeria marilena bart luigia cristiano diego andrea roberta whitney e tutti l'artefice il joker cristina adele andrea e cristiano e tutti quelli che sono per ora presenti credo che più avanti siamo circa 85 adesso più avanti penso che arriveremo un po più su ecco si faceva fa un po caldo qua ingresso cioè scusami ieri c'era un fortunale e la sera c'erano tipo 4 gradi c'è una temperatura qui incredibile e però dopo oggi è stato di nuovo stracaldo perché c'erano circa 11 12 gradi all'ombra ma il sole era come non dico come fosse state ma davvero ci stava molto 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 bene tanto che ti abbronzi ecco poi per uno bianco cadavere che come me biancolatte come me ci si abbronza subito saluto gli ultimi alice luisa e alessandra leggo subito il primo commento perché mi piace e poi dopo cominciamo con la lettura degli articoli dire riferendosi alla live sai così fa al titolo della live sai così è facile non li avrei venduti però deve devo esserci dentro cosa avresti fatto cosa ti avrebbero fatto fare la paura cosa ti avrebbe fatto fare il dio denaro mi sento alessandra di dire subito una cosa il dio denaro secondo me c'entra molto poco tutte le altre cose che hai detto sono barcchio pertinenti ma vado a leggere subito direi quello di celeste di porto e i delatori che è stato scritto da giovanna francesconi perché è quello che ci riguarda più da vicino ovvero essendo i nostri concittadini ebrei che erano nel ghetto ebraico di roma che è un posto bellissimo che consiglio a tutti di visitare e nel 43 esatto 16 ottobre 43 e quel giorno lì ci fu il rastrellamento dopo vedremo in dettaglio i numeri e quel giorno lì non ci fu nessun dio denaro ma soprattutto gli altri centinaia circa 700 un po più di 700 ebrei che furono rastrellati nei mesi successivi lì proprio secondo me c'entrava proprio poco lo vado a leggere dopo leggo sempre riferito a questo articolo un articolo di repubblica che ho trovato molto molto che ci dà dei numeri molto molto precisi e quindi proseguiamo è passato da pochi giorni l'anniversario del rastrellamento del ghetto di roma dove il 16 ottobre 43 l'abbiamo pubblicato qualche mese fa avete visto il video tra le 5 30 e le 16 di pomeriggio vennero arrestati e poi deportati 1022 ebrei soprattutto anziani donne e bambini tornarono solo in 16 15 uomini e una donna nei mesi seguenti furono arrestati altri 747 ebrei buona parte di questi erano gli uomini giovani che erano riusciti a scappare al primo rastrellamento a roma risultavano abitare circa 13.000 ebrei circa l'83 per cento di loro si salvò nascondendosi in campagna o da persone di buon cuore e di coraggio alcuni perfino in case di fascisti che non condividevano le persecuzioni ebraiche altri si rifugiarono in chiese e conventi alcuni si erano uniti alla resistenza è curioso notare come venissero sempre aiutati senza compenso dai civili mentre a quelli ospitati in strutture religiose venisse chiesto un pagamento come dichiarato dai superstiti gli ebrei romani erano relativamente tranquilli avendo versati come d'accordi del settembre 46 tra Herbert Kappler comandante della Gestapo dell'Sd e della Sipo il servizio di sicurezza della polizia di Roma e il presidente della comunità comunità israelittica Ugo Foa 50 chili d'oro per la loro salvezza e abbiamo riportato 50 chili se non sbaglio era 50,3 50,4 c'era una quantità considerevole di sbaglio visto il valore dell'oro il prezzo l'oro fu spedito in Germania a Ernst Ernst Kaltelbrunner successore di Reinhard Heydrich che era il capo dell'ufficio di sicurezza centrale del Reich fu ucciso durante un attentato terribile trovate il video anche di quello su vanilla che non aveva alcuna intenzione di risparmiare gli ebrei la cassa con i 50,3 kg di d'oro fu poi ritrovata intatta nel suo ufficio peraltro vi do un piccolo kick se andate a vedere quello che pensava Hitler di Heydrich è terribile cioè leggendo un po' ci si fa l'idea che alla fine fosse lui quel più cattivo l'uomo dietro tutto la vero non solo la macchina ma proprio il pensiero dello sterminio di quei giorni del 42 al 45 il 14 ottobre i tedeschi avevano sequestrato i documenti del collegio rabbinico di Roma e fra questi si trovavano i nomi e gli indirizzi degli ebrei romani e fu quindi un gioco facile scovarli e arrestarli due giorni dopo approfittando del sabato ebraico giorno di festa architettando un'incursione quando erano ancora tutti a dormire il 15 ottobre Mussolini aveva ricevuto la visita di Karl Wolf comandante dell'SS in Italia e Friedrich Molhausen console generale del Reich accompagnati da Guido Buffarini Guidi ministro dell'interno della RSI lo scopo dell'incontro non è noto ma si può presumere che fosse per avvisarlo dell'intervento del giorno seguente a Roma o che comunque Mussolini ne sia stato informato questo è un excursus che mi ha interessato che ha fatto Giovanna e adesso lo analizziamo quindi Mussolini sapeva probabilmente si era d'accordo probabilmente no avrebbe potuto fare qualcosa probabilmente no qualunque fosse il suo parere non aveva modo di opporsi a una simile decisione si può ritenere che ne sia stato informato in anticipo per cortesia e niente di più ecco io che sono sempre stato e continuo a essere ovviamente un fervente antifascista devo dire che da questo punto di vista qui questo articolo mi ha fornito lo spunto per andarmi a rileggere quello che Mussolini pensava degli ebrei me l'ho un po' dimenticato sono sincero e Mussolini in realtà fino alla fine degli anni trenta era tutt'altro che antisemita anzi era proprio uno era diciamo così una figura che spingeva premeva per l'integrazione ebraica nel nello stato italiano e la completa integrazione quindi effettivamente questo suo cambiamento radicale cioè se uno ad esempio adesso purtroppo non ce l'ho citato qui ma nel 29 uscì ricordo che fece un'intervista in cui proprio lui sposava completamente la causa dell' integrazione naturalmente l'antisemitismo all'epoca era fervente da secoli di antisemitismo e Mussolini era proprio quello totalmente agli antipodi quindi questo suo cambiamento è stato come dire se non altro vedendolo adesso sembra abbastanza curioso strano tragico tra le altre cose ovviamente ricordiamo le leggi contro contro gli ebrei del 38 se non ricordo male e ecco voglio dire che è stato un cambiamento che ha fatto Mussolini nell'arco di pochissimi anni il 16 ottobre iniziò la retata su ordine di Kappler e di Theodor Dannecker responsabile della soluzione ebraica a Roma nel 1943 fu come sempre una questione di fortuna non c'erano italiani fra i militari che dovevano effettuare il rastrellamento poiché venivano giudicati inaffidabili ma anche fra i tedeschi c'erano quelli ligi alle liste che arrestavano scrupolosamente solo chi era assegnato e c'erano gli zelanti che portavano via tutti indistentamente il 18 ottobre partì da Roma il treno con i 1022 ebrei arrestati durante l'incursione con destinazione Auschwitz il 16 ottobre Papa Pio XII era stato informato della retata dopo aver contattato l'ambasciatore tedesco e averlo pregato di intervenire in favore di quei poveretti per evitare che il Vaticano dovesse schierarsi ed aver chiesto la liberazione degli ebrei battezzati che non venne comunque concessa il Vaticano si limitò a chiedere di non effettuare ulteriori arresti per evitare che il Papa dovesse prendere posizione personalmente il 25 ottobre Pio XII chiese ai religiosi di accogliere gli ebrei e proteggerli i chierici naturalmente lo fecero come del resto alcuni di loro lo avevano già fatto dietro iniziativa personale ma il treno del 18 ottobre era già arrivato a Auschwitz il 22 e probabilmente buona parte dei 1022 ebrei era già a polvere nel vento. Nonostante le richieste del Papa gli arresti continuarono senza interventi della Santa Sede se arrestare gli ebrei durante l'incursione fu quasi un gioco per l'arresto degli altri 747 servirono degli aiutini. I ferventi fascisti e nazisti denunciarono per ideologia ma c'è chi fece di peggio e denunciò per ricompensa. Portieri che denunciarono gli abitanti del palazzo chi denunciò i vicini, i conoscenti, perfino ex fidanzati o fidanzate che denunciarono i loro ex. C'è chi denunciò per odio personale, per risentimento, per vendicarsi di uno sgarbo ma la maggior parte lo fece per torna a conto economico. Fra i delatori ci fu anche una donna ebrea celeste di Porto detta la stella di Piazza Giudia per la sua bellezza. Oggi Piazza Giudia, scusate questo vi faccio l'excurso stoponomastico, oggi Piazza Giudia si chiama Piazza delle Cinque Scole. Molto chiacchiere, è tra l'altro una piazza bellissima lì nel ghetto, sono stato un paio di mesi fa, davvero ti sembra di entrare in un altro mondo. Molto chiacchierata per il suo comportamento spregiudicato per l'epoca, dopo l'8 settembre 1943 per proteggere la sua vita e per denaro collaborò attivamente con i tedeschi nella segnalazione degli ebrei. E venne dato il soprannome di Pantera Nera, nonostante avesse solo 18 anni, a lei si deve l'arresto di 26 ebrei dei quali conosceva i nascondigli, tra i quali suo cugino e suo cognato è Lazzaro Anticoli, un pugile ebreo che durante la detenzione nella cella 306 di Regina Celi lasciò scritto sul muro. Sono Anticoli Lazzaro, detto Bucefalo, pugilatore. Se arrivedo la famiglia mia, se non arrivedo, scusate, la famiglia mia, è colpa di quella venduta le celeste. Arrivendicatemi. Vi faccio vedere anche celeste di Porto, perché altrimenti non capiamo di chi parliamo. Vi apro l'immagine, arrivo subito. Ho soltanto una foto molto molto piccola, però penso che riusciate a vederla. Esatto. Celeste di Porto è lei. È una foto piccolina piccolina, però si riesce a intuire. In realtà ci sono un po' di foto, se ne trovano sul web, secondo me alcune sono false, quindi ho trovato questa che dovrebbe essere quella che ce la dà per certo, ecco, cioè è lei sicuramente, senza il minimo dubbio. Lei era la stella di Piazza Giudia, quindi una donna che veniva considerata bellissima lì nel ghetto ebraico. Nelle eretate finì anche il fratello di Celeste, che lei riscattò facendolo sostituire proprio da anticoli nelle liste degli ostaggi da uccidere alle fosse ardeatine. Scappata da Roma dopo l'arrivo degli alleati per timore della vendetta degli ebrei romani, si rifugiò a Napoli. Qui venne riconosciuta e gli statunitensi riuscirono a salvarla dal linciaggio, ma venne arrestata e condannata a dodici anni per la sua attività di collaborazionismo. Le scontò solo sette grazie all'ammistia. Ah, ecco, volevo dirvi, riguardo la storia di Celeste di Porto, trovate il documentario, l'ho visto, a Celeste di Porto, la pantera nera del ghetto, su Rayplay. Vi lascio il link perché secondo me è molto molto interessante. È un documentario rapido, dura soltanto 20 minuti, 25 minuti, è molto 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 bello, molto 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 bello. Allora, riprendo, eccoci qua, vi vado a mettere il link nella chat perché se no me lo perdo. Ok, ho fatto tutto. Non era un problema però solo romano. In tutta Italia ed Europa ci furono i delatori. Furono spesso civili, senza scrupoli, ma in Italia nacquero vere e proprie bande specializzate nella caccia all'ebreo, alcune per ideologia, altre solo per motivi economici. Un uomo ebreo valeva 5.000 lire, una donna 3.000, un bambino 1.500, il listino era stato stabilito da Kappler, e non esitavano a torturare ebrei e membri della resistenza per ottenere informazioni e per poterne catturare altri. La banda più famosa fu quella di via Tasso, la banda Koch, ma ce ne furono anche molte altre in Italia. Fino all'8 settembre gli ebrei venivano segnalati per preservare la razza, ma gli ebrei non rischiavano la vita. Le leggi razziali italiane del 1938 non contemplavano l'eliminazione in Italia, limitavano solo i diritti civili ed è per questo che il numero di vittime italiane rispetto a quelle degli altri paesi fu molto limitato. Nel 1942 Himmler aveva prospettato Mussolini la soluzione finale, il Duce aveva fatto orecchie da mercante e non era successo nulla in Italia, ma dopo l'8 settembre ovviamente e con la Repubblica Sociale Italiana, in teoria fascista, ma in pratica in mano ai tedeschi, infatti si parla di occupazione nazifascista, ma sostanzialmente era una occupazione nazista, la situazione cambiò radicalmente e con il Manifesto di Verona che dichiarava gli ebrei stranieri e nemici, scusate, gli ebrei stranieri e nemici, da ottobre-novembre del 1943 iniziarono le deportazioni in base alle leggi razziali del Reich. Bisogna sfatare almeno in parte il mito di italiani brava gente, prendendo a prestito il titolo del film del 64 di Giuseppe De Santis. Erano bravi quanto gli altri, in maggioranza non erano antisemiti, ma la nota furbizia italiana, non pregio ma notevole difetto soprattutto in questo caso, arrivava a livelli di crudeltà senza pari. Ci furono delatori che intascarono tre volte un compenso per la stessa persona, dai tedeschi alla prima denuncia, dalla famiglia della vittima sfruttando la buona fede e la disperazione, sostenendo di poter liberare il loro caro e intascando oro e denaro, e dopo averlo fatto fuggire e nascondere, lo denunciavano nuovamente ai tedeschi per un'altra ricompensa. Alcuni si spacciarono per avvocati, sostenendo di avere agganci con i tedeschi e poter dietro pagamento proteggere e far fuggire i familiari degli arrestati per sapere dove si nascondevano, o addirittura spacciandosi per ebrei con un congiunto moribondo e arrivando a farsi indicare dove era nascosto un rabbino per sararlo con la scusa dell'ultima unzione. Non c'è da stupirsi che i delatori riuscissero nel loro intento. Spesso erano conosciuti o avevano conoscenze comuni. La paura e la disperazione abbassavano il livello dei guardia degli ebrei. Dopo la fine della guerra, la comunità ebraica cominciò a raccogliere dati e informazioni dai superstiti e cominciarono ad affiorare le figure dei delatori con tutto l'orrore del caso. Gli elenchi relativi alla città di Roma sono consultabili presso gli uffici della comunità ebraica di Roma, ma sono consultabili solo per gli studiosi. Ci sono nomi e cognomi di quelli che poterono essere identificati, alcuni furono giudicati, altri purtroppo no, ma se ne ricava un quadro sfaccettato rispetto alla storiografia mediatica postbellica che ci ha sempre riportato e che non ci fa onore, ovvero ci siamo spesso dipinti davvero come italiani brava gente, ma fumo esattamente come gli altri sostanzialmente. Vado a questo proposito a leggervi l'articolo che naturalmente, figurati, intanto vado a spegnere l'anteprima di Celeste di Porto, Repubblica mi ha fatto uscire otto pagine di pubblicità perché se non ci mettiamo un quintale di pubblicità per allontanare i lettori non siamo abbastanza contenti. Allora vado a leggervi qualche, ecco, vado a leggervi l'articolo del 2015 di Gabriele Isman che si chiama La Shoah, la lista nera dei velatori italiani, così consegnarono gli ebrei ai nazisti. È molto veloce, ve lo leggo, è rapido, aggiunge qualche informazione e anche un libro di riferimento. Allora, se nel Mentre Repubblica riuscisse a farmi vedere il contenuto e non solo pubblicità. Due anni di lavoro per scoprire cosa avvenne davvero agli ebrei romani tra il 16 ottobre 43, il giorno del rastrellamento del righetto, e il maggio dell'anno successivo. E alla fine una casetta di numeri, storie che ridefiniscono le vicende della Shoah, della capitale, tra vittime e carnefici. È anche una blacklist di italiani che in quei mesi denunciarono altri italiani. L'elenco è a disposizione degli studiosi, consultabile negli uffici della comunità ebraica romana. L'elenco non fa sconti, comprende anche Celeste di Porto naturalmente, ebrea, che fece arrestare perfino i suoi familiari. Nei mesi prossimi tutto finirà in un libro per l'editore Viella, quindi il libro è chiaramente già uscito. Sulle lapidi viene indicato il numero di 2.091 deportati, quelle che sono a Roma, ma in realtà furono 1.769, 1.022 in quel sabato nero e 747 nei mesi successivi tra ebrei romani e non arrestati nella capitale. Nell'elenco precedente c'erano nomi duplicati, persone che furono prese altrove, confusione nei cognomi, dice Claudio Procaccia, direttore del Dipartimento Cultura della Comunità Ebraica Romana, che ha realizzato la ricerca finanziata dalla Fondazione Museo della Shoah. Il 16 ottobre, prosegue, furono presi soprattutto giovani, donne e anziani. Gli uomini scapparono, credendosi l'obiettivo del rastrellamento del ghetto, ma saranno loro, soprattutto tra i 20 e i 35 anni, a essere catturati e deportati nei campi di sterminio nei mesi successivi, al 16 ottobre. Dovevano cercare cibo per sé e per i familiari, e spesso non avevano nulla da scambiare. Amedeo Osti Guerrazzi è lo storico che, con il demografo dell'Istat, Daniele Spizzichino, ha collaborato alla ricerca. Nella stragrande maggioranza dei casi, quei 747 ebrei furono presi su dell'azione di altri italiani. Abbiamo ricostruito la storia di 383 casi, ma sicuramente furono di più. Sappiamo dove e quando furono presi, chi ne permise la cattura e cosa accadde dopo. Quindi è stato un lavoro di ricostruzione eccezionale. Abbiamo anche cercato di scoprire, aggiunge lo storico, i metodi dei delatori. Erano singoli e soprattutto vere e proprie bande al soldo dei tedeschi. Ne abbiamo censite otto, a partire dai ciali mezza Roma, che consegnarono 80 persone. Arrivavano a fingersi avvocati nelle carceri per convincere i prigionieri a fornire gli indirizzi dove si nascondevano i parenti. E poi c'erano le torture, concentrate in via Tasso. E qui abbiamo ritrovato anche la figura di Erich Priebke, vero braccio destro di Kappler. È anche significativo, dice Procaccia, il numero basso delle conversioni per evitare le deportazioni. Furono un migliaio sui 13.000 ebrei presenti a Roma, quindi soltanto in mille si convertirono. Difesero la loro identità anche se rischiavano la morte. La ricerca, spiega Silvia e Antonucci, responsabile dell'archivio della comunità, si è basata su fonti documentali e su 250 questionari a cui hanno risposto ebrei scampati alla persecuzione. Tra questi, molti hanno avuto dei portati tra i familiari. L'80% di chi evitò i rastrellamenti, si salvò a Roma o nelle sue vicinanze. Andò diversamente a chi si rifugiò in strutture religiose. Il 56 per cento fu costretto a versare soldi, il 4 offrì forme di lavoro, nonostante un articolo dell'osservatore romano del 25 ottobre, nove giorni dopo il rastrellamento, che si intitolava La Carità del Santo Padre e che indicava implicitamente di aprire le porte di conventi e chiese a tutti, senza istinzione di età, sesso o religione. Quindi in realtà conventi, chiese e istituti ecclesiastici pretesero un pagamento, in una buona ottima parte dei casi, dagli ebrei che dovevano scappare al rastrellamento e alla morte. I tedeschi guidati da Kappler avevano anche fissato il prezzo degli ebrei, questo l'abbiamo già visto. Mi furono casi di portieri, ma anche ex fidanzati o semplici vicini di casa che diventarono delatori. Quanto emerge dalla ricerca dimostra che la responsabilità italiana nella Shoah del nostro paese furono maggiori di quanto finora credessimo, questo veniva detto nel 2015, quindi quasi sette anni fa. Se è vero che tanti hanno salvato, moltissimi hanno collaborato, cresce anche il numero dei partigiani ebrei, questo è interessante. Si pensava che fossero una decina e invece furono sessanta, un numero non trascurabile. E tutto diventa ancora più tragico se pensiamo che dei 1769 rastrellati tornarono vivi soltanto una novantina. bene, adesso posso leggervi l'articolo finale, bevo un po', guardo se c'è qualche domanda nel mentre. Vado a leggervi velocemente quello di Hans von Dijk. Anna Hans von Dijk nacque ad Amsterdam nel 1905, figlia di due genitori di religione ebraica. La storia della sua vita si intreccia in modo drammatico con l'occupazione tedesca dei Paesi Bassi e con le deportazioni nei campi di concentramento dei cittadini ebrei, perpretate dai nazisti tra il 1942 e il 1945 in tutta l'Europa occupata. La sua vicenda umana termina il 14 gennaio del 1948, quando viene fucilata dopo essere stata riconosciuta colpevole di crimini contro l'umanità. La storia personale della von Dijk è decisamente particolare e fa comprendere quante sfaccettature possa aver avuto in tutta Europa la persecuzione degli ebrei e degli omosessuali. Per capire come e perché si sia arrivata alla sua fucilazione partiamo da principio. Hans von Dijk era figlia dei genitori ebrei Aaron von Dijk e Kathebin. Nel 1927 sposò un tale di nome Brancherido, dal quale si separò nel 1935. Dopo la fine del matrimonio iniziò una relazione omosessuale con una donna di nome Nip Stoddell e aprì un negozio di modisteria chiamato Maison Evamie ad Amsterdam. Gli affari andavano bene, ma il negozio venne chiuso dopo l'occupazione tedesca del 41 come parte del sequestro di attività e proprietà condotte da olandesi di fede ebraica. Della compagna di Anna, Mip Stoddell, non sappiamo praticamente nulla, se non che nel momento dell'occupazione fuggì in Svizzera e quindi scompare dal nostro racconto. La von Dijk rimase invece nei Paesi Bassi e nella domenica di Pasqua del 1943 venne arrestata dal detective dell'SD, il servizio di intelligence nazista, qui mi aveva aiutato Roberto Zuccarello a pronunciarlo, Seeker Heidinst, penso di averlo pronunciato anche bene. Si chiamava Peter Schaap, dell'ufficio degli affari ebraici della polizia di Amsterdam. Aver salva, alla donna fu fatta un'offerta, aver salva la vita in cambio della collaborazione con la SD. Anna von Dijk accettò la proposta e iniziò a fornire informazioni su dove trovare gli ebrei nascosti. Il modo in cui operava è la semplice, la von Dijk ebrea e omosessuale, si fingeva membro della Resistenza e si proponeva di aiutare le famiglie ebree a trovare un nascondiglio sicuro dai rastrellamenti tedeschi. In realtà, una volta capita la posizione dei correligionari, trasmetteva le loro posizioni alla Sischer Heidist. In questo modo riuscì a catturare, si stima, almeno 145 persone, tra cui suo fratello e diversi membri della sua famiglia. Tra coloro che furono arrestati grazie alle segnalazioni della von Dijk, ben 85 morirono nei campi di concentramento. Ma una stima più recente indica in almeno 700, quindi stiamo parlando dello stesso numero di ebrei che furono uccisi a Roma grazie ai delatori. Una stima più recente indica in almeno 700 il numero di morti totali legate al lavoro della donna, se così possiamo definirlo. Il più recente libro uscito sull'argomento, The Backyard of the Secret Hummocks, scritto dal figlio settantenne di Gerard Kramer, indica nella von Dijk la colpevole della segnalazione, fra le altre, della famiglia Frank. Secondo questo quanto affermato nel libro, Gerard Kramer, scomparso nel 1978, era il custode di un edificio nel centro di Amsterdam utilizzato dalle autorità tedesche e dal movimento nazional socialista dei Paesi Bassi. Il libro spiega che l'uomo, quindi il padre dell'autore, vide spesso entrare la von Dijk nell'edificio con una sorta di travestimento. Aveva osservata più volte usare il telefono degli uffici occupati dai tedeschi e in un'occasione, a pochi giorni dall'arresto della famiglia Frank, la sentì parlare del Prisengracht con il personale della polizia segreta delle SS. Il Prisengracht è un canale adiacente a una strada di Amsterdam che porta lo stesso nome, dove Anna Frank e i suoi sette compagni rimasero nascosti per più di due anni, fino a quando non furono scoperti. Fu quindi Anna von Dijk a rivelare la posizione della famiglia Frank? Ormai è difficile scoprirlo, io sono andato anche a leggermi tutto quanto viene scritto sul sito ufficiale della memoria di Anna Frank e viene tenuta in considerazione come ipotesi accessoria. Non è sicuro, cioè è una fra le tante ipotesi che si fanno su chi vendette la famiglia Frank e la famiglia degli amici, dei compagni di prigionia di nascondiglio, otto persone in tutto. Sono tante le ipotesi, una fra le ipotesi è questa, quindi bisogna specificarlo. Dopo la guerra Anna von Dijk si trasferì a Laia, dove fu arrestata a casa di un amico il 20 giugno del 1945 e imputata per 23 capi d'accusa connessi con la colpa di tradimento. Il 24 febbraio 1947 fu condotta nel Tribunale Speciale di Amsterdam. L'accusata ammise tutto quanto le era contestato asserendo di aver agito soltanto per difendere la propria vita. Ecco, questo è un po' secondo me il fulcro della discussione della live di oggi. Lo rileggo. L'accusata ammise tutto quanto le era stato contestato asserendo di aver agito soltanto per difendere la propria vita. Nonostante la confessione e la più che circostanziata prova che Anna fosse davvero in pericolo di vita, vista la sua omosessualità e l'appartenenza alla religione ebraica, il Tribunale procedette a combinarle la massima pena, quindi la morte. La donna venne condannata a morte e nel settembre del 1947 la Corte Speciale d'Appello confermò la sentenza. Il 14 gennaio del 1948 fu giustiziata a Fort Bilmer. La notte prima della sua esecuzione fu battezzata e si unì alla Chiesa Cattolica Romana. Bene, adesso vado a leggere qualche vostro commento che state facendo adesso e mi accendo un po' di termosifone perché comincia a far freddino, senza riscaldamento e freschino anche qua. Allora, la riflessione che ho voluto portarvi stasera è questa, ovvero Anna von Dijk, celeste di Porto, che era ebrea. Persone che hanno venduto gli ebrei ai nazisti, ma che lo hanno fatto non in una condizione di libertà, ma in una condizione di minaccia alla propria vita. Hanno commesso un crimine che davvero, nel caso di Anna von Dijk, fu uccisa, quindi fu condannata a morte. Questo è singolare, vedete la differenza di pene. Celeste di Porto fu soltanto condannata a 12 anni di carcere. In questo caso qui i tribunali italiani furono più magnanimi rispetto alla Corte dell'AIA. Ora, qual è il tribunale ha fatto bene? E soprattutto noi. Cosa avremmo fatto a loro posto? Io ho letto tanti commenti in queste settimane in cui sono stati pubblicati. Vi dico quanti commenti hanno avuto. Allora, il video sugli italiani che vendettero gli ebrei e nazisti ha avuto 85.000 visualizzazioni circa e ha 672 commenti, quindi non pochi, direi tantissimi. E invece il video su Anna von Dijk ha 70.856 visualizzazioni, quindi un buon numero anche questo, con 529 commenti. Quindi sono stati alcuni degli articoli, direi, più commentati di quest'anno in assoluto. Non fra i più visti, ma in assoluto fra i più commentati. Allora, c'è veramente del materiale dietro di cui parlare. Perché? Perché ho letto tante sfaccettature di quello che pensa la gente. C'è chi dice, io sono assolutamente sicuro che non avrei mai venduto i miei correligionari, i miei fratelli, i miei cugini, i miei zii, eccetera. C'è chi dice, a mio modestissimo parere, un po' più realisticamente, c'è chi dice che invece probabilmente in quella situazione lì avrebbe venduto anche lui. C'è chi dice che sarebbe potuto scappare, c'è chi dice di tutto in questi commenti. Voi come la pensate? Cominciamo a leggere i commenti, direi, dalla chat, mi piacerebbe, che leggere prima i vostri commenti, poi dopo andare a ripescare qualche commento qua. Vediamo se trovo qualcosa in particolare su questa mia domanda. vediamo qua. No, per ora non c'è nulla. Allora, proseguo con, parto dai primi commenti sugli italiani che vendettero gli ebrei nazisti. Dice Edmond, ottima esposizione. I miei nonni materni sono tedeschi e mi hanno raccontato molti episodi del periodo bellico, i di compresa la persecuzione del popolo ebraico. Vivevano ad Hannover e qualche volta improvvisamente dei loro vicini o conoscenti o amici semplicemente sparivano. La sera prima si salutavano e il mattino dopo non erano più in casa. Si resero conto di cosa stava succedendo quando, magari chiedendo in giro, che fine avevano fatto queste persone, gli veniva detto che era meglio non fare domande. È vero, noi italiani siamo molto, anzi troppo indulgenti con la nostra storia. Come sai, per tutto è difficile confrontarsi con le proprie responsabilità e a noi non riesce proprio bene. Un saluto. Ecco, questa è stata una testimonianza che mi è piaciuta moltissimo. Edmond, scusatemi, non Edmond. Edmond. È stata una testimonianza che mi è piaciuta veramente tanto perché ci racconta proprio la modalità con cui avveneva il rastrellamento, ovvero le denunce eccetera. Ovvero tu la mattina le vedevi, la sera erano già spariti e semplicemente non dovevi parlarne, ci si creava una cappa di omertà su queste cose qui che è davvero importante. Ecco. Stefania dice, ciao, se avessi potuto avrei evitato come la peste di farmi prendere dall'ESS per essere usata come spia. Probabilmente avrei fatto lo stesso anch'io. Sì, sono d'accordo. Ovvero, io non lo so cosa avrei fatto, sono sincero. Cioè, credo veramente che... Mi spiego perché... Vi voglio spiegare anche il perché di questa live. Adesso che siamo un 135-136 circa. Ho visto troppa faciloneria nel dire avrei fatto questo o avrei fatto quello. Secondo me non riuscite proprio a ipotizzare cosa fareste. Mi spiego. Non voglio dire che chiunque di noi sarebbe stato uno dei peggiori delatori. E non voglio accusare nessuno. E peraltro, ragionandoci tanto in questi giorni, ma anche molto prima quando ho fatto i video, ho pensato che alla fine probabilmente non avrei denunciato con facilità neanch'io. Perché penso che in quei momenti lì probabilmente verrebbe fuori anche l'orgoglio, ma anche vostro, di tutti ecco, di dire nazisti, oh ma vaffanculo, detta come mi ha detta, io non te lo dico il nome. Perché tu me lo vuoi prendere? Io non te lo dico. Non ti dico dove si nascondono, eccetera. Credo che in molti di noi verrebbe fuori questo orgoglio, sostanzialmente. Probabilmente ci sono delle complicanze che renderebbero più difficile un atteggiamento così spavaldo. Ne dico una su tutti. Figli a casa, la madre a casa, o persone che abbiamo vicino facilmente colpibili. Però credo che in questi casi qui verrebbero fuori tanti sentimenti di noi stessi, che forse non conosciamo. E non è detto che tutti siano così verso il sì, va bene, dai, ti dico i nomi perché così mi lasci stare. Non sono così sicuro, ecco. Andiamo, allora, leggo il commento della nostra mascotta, Andrea Sette, il più giovane abbonato al canale, credo uno dei più giovani abbonati al canale. La storia viene comunque giudicata, perlomeno nel contesto storico. Io non avrei mai tradito, ma che scherzi, si fa uccidere gli altri per non essere catturato te, è cattiveria. Rosa Spina ci dice molto sinceramente, a me piace, cioè, ecco, c'è la missione, il vedere, ecco, io sono più verso il non sapere, magari c'è invece chi dice, no, guarda, io sicuramente avrei fatto. Io dico la verità, non lo so cosa avrei fatto. Rosa Spina dice, ciao, scusate se commento solo ora, per proteggere me e i miei cari, lo dico con dolore, ma lo avrei fatto. Michele ci dice, allora, faccio, faccio Michele una breve recap, ormai siamo a 44 minuti di live, dunque, ho letto due articoli, gli italiani che vendettero gli ebrei nazisti e Hans von Dijk, la donna ebrea che vendette i suoi co-religionari all'SS, implicata anche nell'affaire Anna Frank, e abbiamo letto questi articoli, i video li trovi su Vanilla, ci sono anche non letti in questa live, ma video montati, ecco, e dopo averli letti abbiamo discusso sul fatto, che stiamo discutendo sul fatto di chi ha venduto e perché ha venduto persone ebree e se noi siamo in grado di giudicarli, se siamo sicuri di quello che avremmo fatto al loro posto, ovvero, l'ho detto in un video, io mi sono immaginato una scena, ovvero magari un membro dell'SS che ci chiude in un ufficio, in una stanza e comincia a gridarci in un mezzo più tedesco che italiano che se non consegnassimo i nostri compagni, se non denunciamo altre cinque persone e non diciamo con precisione qual è il loro nascondiglio, ci mandano ai campi di sterminio, che allora non venivano chiamati naturalmente i campi di sterminio perché, ma si sapeva già, cioè tanti sapevano dove si andava a finire, se ne sapevano che si andava a morire. E questo, e quindi questo è un po' il tema, cioè noi uomini moderni, cosa avremmo fatto? Dopo 80 anni quasi di propaganda contro i fatti, propaganda in realtà non è propaganda, di storicità, di costruzione di questa memoria che abbiamo avuto, di colpa nei confronti dello sterminio ebraico, io credo, sto pensando agli altri grandi stermini della storia dei genocidi, genocidio armeno, genocidio dei nativi americani, genocidio dei nativi sudamericani, e ce ne sono tantissimi altri in realtà, credo che sia l'unico, anzi sicuramente, è l'unico che ha subito una così profonda presa di coscienza da parte del genere umano, ecco, noi dopo tutta questa presa di coscienza degli ultimi 80 anni, che cosa avremmo fatto al loro posto? Questa è la mia domanda, che spero trovi delle risposte interessanti ai argomenti di discussione, ecco. Pol Pot, bravissimo, Bart, esattamente. Esatto, il genocidio armeno non è ancora stato riconosciuto dalla Turchia, bravissimo. dice colei o colui dal nome giapponese, io per me vedo sempre una finestra abbastanza alta da cui saltare, per atterrare di testa, pochi secondi di angoscia e basta, non sento il bisogno di vivere a lungo per forza. Alessandra, di fronte alla paura non puoi sapere che cosa avresti fatto. L'oro è stato raccolto nel 43, forse, sì sì, l'oro è del 43, scusate, se ho detto 46 chiedo scusa, mi sono sbagliato, certo. Sì sì, l'oro è stato raccolto nel 43, erano 50,3 kg, questo, penso di non aver sbagliato a dirlo, ecco, comunque era del 43, probabilmente mi sono confuso con i numeri. Valentina, io non mi sarei mai fidata di fare affari con i miei aguzzini, però trovo sbagliata la pena di morte. Allora, infatti, allora aspetta, scusa, ma chiudo, chiudo, leggo qualche altro commento. Alessandra, mi sono sempre chiesta perché non sono scappati prima, vedendo come si stava rivolendo la cosa, ed ecco che quello che sta succedendo ora, mi fa essere meno superficiale. Allora, dunque, diciamo che, come abbiamo letto dai numeri, un ottimo, più dell'80%, non ricordo le unità, però, le decine, le ricordo bene, più dell'80% riuscì a scappare. Una parte degli ebrei è rimase nel ghetto di Roma, tanti altri in altre città non ebbero un destino così favorevole come gli ebrei romani. Ora, ribadisco, certo, scappare, ma se non ce l'hai fatta, come fai? Sei lì, ti hanno preso, cosa fai? Cioè, è chiaro che se puoi scappare, scappi. Cioè, io non, voglio dire, non sto mettendo in dubbio che chi ha avuto modo di scappare sia scappato. Chiaro. Ma se non sei riuscito a scappare per 1200 ragioni che noi non possiamo sapere, che cosa fai? Li vendi i tuoi familiari, i tuoi compagni, oppure vai nel campo di concentramento? Questa è la domanda, sapendo che poi tanto non tornerai perché morirai. Ah, volevo dirvi, farvi questa statistica interessante. Tornarono 15, dei primi, un po' più di 1000 che vennero rastrellati, tornarono vivi. in 15, scusate, 15 uomini e una donna. Questo ci fa anche capire quanto effettivamente gli uomini fossero molto più utili al Reich di quanto non fossero le donne. Probabilmente le donne venivano uccise con molta più facilità, ecco. Ricordi aerei dice, certo, ora mente fredda è facile dire che non avrei denunciato, non avrei tradito, ma bisogna pensare che in quei tempi i nazisti sembravano invincibili. vado a leggere altri commenti. Grazie Mark, sei stato gentilissimo. Esatto, bravissimo, un altro, anche la divisione fra Pakistan e India è stata veramente cruenta. prima o poi ne devo parlare anche della carestia che ci fu in Pakistan durante la Seconda Guerra Mondiale. Marisa, cosa avremmo fatto noi? i miei parenti di Roma non sono più tornati, come tanti, troppi. Peccato non ci sia stato un processo di Norimberga italiano. È vero, anche questo è un grande tema. Perché l'Italia non ha affrontato, come ha fatto la Germania? Perché l'Italia non ha affrontato le proprie colpe con lo stesso spirito della Germania? Le ragioni secondo me sono tante. Però sarebbe stato veramente utile, ecco. sarebbe stato davvero utile perché la Germania è proprio ripartita. Cioè si nota questa cosa qui. Cioè arrivi a un punto e poi dopo cambi. In Italia non è successo questo. Infatti, l'ho detto anche in un'altra live, io, come tantissimi altri, credo, nonostante le mie idee politiche, che siano diametralmente opposte al fascismo. Insomma, devo fare i conti con dei parenti che sono stati nostalgici del fascismo. E questo, secondo me, si crea, è chiaro che c'erano i nostalgici del nazismo anche in Germania, però credo che il non aver avuto un Norimberga sia stato molto deleterio per l'Italia. cioè non si è ripartiti in un'ottica convintamente antifascista. Questa è la percezione che ho io, è un po' questa qui. Chissà che anche gli anni di piombo non siano in parte un po' dovuti a questa deriva, nonostante naturalmente le BR fossero di sinistra, si professassero di sinistra, eccetera. Insomma, è un argomento molto complesso, molto ampio, ma stasera stiamo parlando d'altro. Rosa Spina L'attaccamento alla vita è qualcosa di profondo, viscerale, ancestrale. L'attaccamento alla famiglia, alle persone, care, idem. Alice Per fortuna non potremmo nemmeno immaginarlo. Probabilmente avrei agito cercando di essere il più astuta possibile, ma non mi viene in mente nulla di furbo. Daniela Sicuramente non avrei denunciato per proteggere me, ma non so cosa avrei fatto se avessero minacciato la mia famiglia. Gli affetti ti fanno fare strane cose. Michele dice Io non so cosa avrei fatto, ma probabilmente se avessi dovuto vendere persone a cui volevo bene, non lo avrei fatto Dice Michele riprendendo il ragionamento del discorso di Norimberga forse hai ragione perché la strage alla stazione di Bologna è chiaramente fascista. Sì, beh in realtà in quegli anni lì chiaramente era era cioè naturalmente noi ricordiamo le BR per il caso Aldo Moro ovviamente il rapimento e assassino più celebre di quegli anni lì ma i gruppi non erano certamente solo comunisti ecco nonostante i comunisti fossero quelli che sono rimasti più famosi e non c'erano solo le BR Maria Giovanna non mi viene in mente non mi viene in mente un SS che si non ho ancora trattato casi di SS che si pentirono ma sicuramente tantissime persone non si pentirono che comunque ebbero un comportamento umano ed empatico con le vittime ma sicuramente tantissimi membri dei vari corpi non solo della Wehrmacht ma dei vari corpi militari e non tedeschi che occuparono l'Italia e gli altri paesi ebbero dei comportamenti assolutamente normali è vero io lo ricordo sempre mi raccomando quando parliamo di questi argomenti andate a vedere le foto di Ugo Jäger o Ugo Jäger non ricordo mai come si pronuncia il tongo a E dietro la J e comunque lo trovate J A E G R e andate a vedere quelle foto lì perché sono a colori e ci rendono e ci sembrano foto odierne e ci rendono davvero bene meglio rispetto a da altre che sono in bianco e nero il metro di quello che fu la percezione del popolo tedesco che era veramente compatto nel sostenere lo sforzo non solo bellico ma lo sforzo della Germania di ergersi a guida dell'Europa lo so che è brutto da dire in questi termini e so già che alcuni di voi stanno pensando ai parallelismi con la situazione politico-economica odierna che non è paragonabile lo ripeto perché è un conto alla dittatura non ha tutt'altro conto democrazia e leggi politico-economiche che regolano i rapporti fra stati però insomma ragionamento è che allora il popolo tedesco era non naturalmente del tutto compatto mi avete già scritto in tanti che devo fare il video sulla rosa bianca ho già naturalmente tutto il materiale per farlo prima o poi lo farò comunque tantissime furono le persone che si ribellarono al nazismo furono un numero peraltro significativo tantissimi tentarono di ribellarsi poi dopo furono riportati non alla ragione ma purtroppo alla logica della sopravvivenza e peraltro ho fatto il video sul più giovane avevamo fatto una live anche sul più giovane a ribelle al nazismo che mi sembra fosse sia stato fucilato quando aveva 16 anni ecco cioè non tutti non tutti i tedeschi furono così e questo bisogna assolutamente specificarlo mi interessa però stasera capire voi cosa avreste fatto vado a recuperare qualche altro commento dai video su Hans eccoci qua il commento che è uno dei commenti che ha ricevuto più like 80 like il problema fondamentale dell'essere umano è che è convinto che la sua vita valga di più di quella degli altri ecco perché chi la mette a repentaglio per salvare quell'altrui diventa un eroe Retravicello la domanda che hai fatto alla fine risuonava in me durante il video non tutti possono essere eroi o lo spirito di sopravvivenza ci può portare a fare cose che a mente fredda ci paiono intollerabili come il cannibalismo e il tradimento delle persone a noi più care grazie Matteo per il sentimento che ci metti nel raccontare Marilena se potessi mettere un super like per l'articolo soprattutto per la domanda finale posta che condivido pienamente avevo tempo fa commentato un video con gli stessi argomenti di fronte alla scelta tra morire tra torture e umiliazioni e vivere pochi eroi sono stati in grado di effettuare una scelta etica la giustificazione ed assoluzione che ognuno di noi dà a se stesso per le scelte fatte sono molte volte scuse fini a scansare la propria coscienza ecco poi dopo qui c'è chi commenta io questa non l'ho ben capita cioè nel senso io non capisco la similitudine con i tempi odier mi sono sincero ragazzi io questa ve la devo dire perché se no sono troppo cioè non 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 la capisco cioè nel senso parliamoci chiaro qui si trattava di denunciare persone e mandarle ai campi di concentramento probabilmente non tutti sapevano che c'erano i campi di concentramento eccetera ma quando sta gente non tornava poi dopo si sapeva che fine avesse fatto è vero che la propaganda nazista aveva tenuto il campo di teresi stad scusate la mia pronuncia terribile comunque c'era un campo che era tenuto proprio che veniva fatta vedere la croce rossa eccetera quindi la propaganda nazista diceva che questi campi non erano di sterminio ma naturalmente di lavoro ecco ma tantissimi sapevano che fine facevano fare a questi ebrei e alla fine li avevano fatta fare che similitudine possa esserci con i tempi moderni se ci riferiamo a sto discorso del Green Pass io proprio non lo capisco cioè proprio non ci vedo niente questa non è dittatura cioè qui è il ragionamento del vaccino è semplicemente un vaccino non c'entra nulla con andare in un campo di concentramento ecco lo dico lo dico mio malgrado sorridendo ma ma ha poco senso ragionare in termini che abbia ragion d'essere il parallelismo fra fare un vaccino per esempio la questione è quella e andare e denunciare qualcuno e mandarle in un campo di concentramento ecco vabbè insomma forse non ho capito io nel senso forse non ho capito questo parallelismo ma davvero non la capisco non la capisco non è che in uno stato in cui c'è un'emergenza sanitaria in cui sono morte centinaia di migliaia di persone non mi ricordo in Italia quante ma davvero un numero significativo credo più di 100.000 e peraltro comunque questa pandemia non ha portato solo il problema dei morti ha portato ad esempio l'ulteriore crollo della natalità in Italia siamo a 1,17 figli iperdonna in Italia peraltro una media portata su soltanto grazie alla popolazione immigrata in Italia perché altrimenti mi sembra che ho letto me ne sono interessato un po' all'argomento ho visto il film che ha fatto Breaking Italy il video che ha fatto Breaking Italy mancava qualche passaggio che mi ero letto in altri articoli comunque mi sembra che la popolazione italiana scusate che gli italiani da generazione diciamo e non italiani di seconda o terza generazione più più recenti abbiano una media di figli per donna di 0,96 0,97 cioè praticamente sotto la metà della soglia di rimpiazzo cioè è veramente incredibile ecco la pandemia porta dietro tante cose il fatto che sia necessario fare il vaccino con adesso spero di quanto prima di farmi la terza dose ma tutte queste cose qui sono necessarie nessuno ti viene a prendere a casa nessuno ti spara nessuno ti tortura nessuno fa nulla che sia paragonabile ai campi nazisti ecco chiudo qui la polemica però finisce qua ecco nel mentre ringrazio Velia Galatti che è diventata nuovo membro del club di Vanilla Magazine grazie mille vai a vedere tutti i video che sono esclusivi per gli abbonati perché voglio che li vediate tutti quanti ecco visto siamo in tanti ormai siamo più di 5 siamo quasi 600 abbonati ecco siamo circa 580 mancano 20 abbonati e 600 che sarebbe un grande traguardo e ho visto però che alcuni video pubblicati solo per gli abbonati non vengono visti e quindi mi raccomando voi tutti abbonati andate per favore a vedere i video per gli abbonati insomma domenico raso dice una parola una parola dice una frase interessante può aprire qualche argomento di discussione buonasera parafrasando le parole di Primo Levi non si salvarono i migliori di noi ma coloro che riuscirono a mangiare rubando agli altri coloro che riuscirono a essere meno uomini vediamo un po' Anna Maria Esposito faccio un micro excursus perché mi sembra giusto avere anche il contraddittorio Matteo io lavoro in ospedale adesso dai numeri sono ridicoli con tutto il rispetto sì sono d'accordo anch'io ho visto il numero di morti che è bassissimo infatti non ho ben capito tutto questo terrore della terza dose questo terrorismo mediatico ovvero io non sono 100% con il governo eccetera sapete che sono stato schierato completamente con il vaccino e continuo a esserlo tuttora peraltro tante persone che hanno preso il coronavirus da vaccinati mi hanno detto tutti la stessa cosa ci sono stati benissimo mi ne siamo accorti sì e no ecco e quindi il vaccino era questo il suo scopo ovvero farti passare il coronavirus indemne adesso davvero non ho capito bene il suo terrorismo per la terza dose anch'io sono un po' devo riuscire a capirlo non so se sia in previsione di una variante omicron che potrebbe risultare più letale ma mi fermo qui ecco perché sono sono completamente ignorante Alice allora non voglio spostarmi sul discorso Novax no non voglio spostarmi qui è vero infatti non voglio non voglio uscire non voglio uscire dal discorso perché se no andiamo a parlare di tutt'altro che non mi piace ecco ecco appunto per dire mi dice Isabel non hai capito perché non ti è chiaro che siamo in una dittatura no infatti Isabel guarda senza voler fare polemica con te con molta tranquillità ti dico no non siamo in una dittatura ed è c'è la caratteristica della dittatura per la quale ti leggo ora la definizione te lo leggo sul Treccani così abbiamo dittatura nel regime politico caratterizzato dalla concentrazione di tutto il potere in un solo organo monocratico o collegiale che l'esercita senza alcun controllo dittatura militare fascista italiana eccetera quindi esatto dominio di fatto dopo ci sono altre definizioni dominio di fatto incontrastato di una persona di un ente di una categoria in posizione dispotica intransigente della propria autorità nel senso di ribellarsi ora ti dico pensare che noi siamo in un regime politico caratterizzato dalla concentrazione di tutto il potere in un solo organo monocratico collegiale che l'esercita senza alcun controllo io credo che sia completamente sbagliato cioè non è la nostra situazione ecco cioè qui non c'è una dittatura ecco non ha senso parlarne insomma comunque chiudo qui il ragionamento ti ho detto come la penso io sapete che lascio spazio a tutti però secondo me questa non è non è la realtà ma voglio tornare al tema appunto che è quello del dire ovvero cosa avremmo fatto noi vado a leggere qualche altro commento che c'è stato sotto i video e Claudia ha scritto ci comportammo come tutti gli altri nonostante per narcisismo ci consideriamo brava gente purtroppo sempre attuale Sciapo Matteo Eva mi scrive la storia dovrebbe insegnare a non ripetere gli stessi errori ma in me non è così per i soldi c'è chi venderebbe la propria madre anche oggi forse più di ieri Marco è più facile seppellire la verità o distorcerla che ammettere di non essere stati i migliori degli altri in questo caso parla del video degli italiani che vendettero gli ebrei nazisti l'hanno fatto anche molti altri paesi mi piacerebbe molto vedere altri video come questo per discutere meglio di come in realtà non ci furono azioni veramente innocenti per quel che è stata l'ascesa di Hitler l'olocausto e la seconda guerra mondiale in generale esatto infatti prima o poi bisognerà fare un video sulle responsabilità anche delle altre nazioni sull'ascesa del nazismo non solo no scusate sullo scoppio della seconda guerra mondiale perché secondo me è molto molto interessante eccoci qua gli italiani hanno varie qualità e purtroppo e purtroppo anche un tratto negativo che è un misto di bigliaccheria e furberia questo ha generato nella storia numerosi episodi vergognosi altro che brava gente quando fai una nuova emoticon vanilla hai ragione bisogna che faccia una nuova emoticon giusto ancora non siamo agli abbonati sapete che ho messo le iconcine per gli abbonati ovviamente però non siamo ancora alle iconcine non c'è ancora nessun Dante sono veramente curioso di vedere chi arriverà a essere per primo caratterizzato dall'iconcina con gli abbonati di Dante che è l'icona per i due anni di abbonamento proprio secondo me dovrò vorrei farci un video insieme ecco perché è troppo bello Berto dice grazie a Dio non abbiamo dovuto scegliere tra la nostra vitra o quella degli altri quella è la dittatura esattamente allora Emanuele mi fa una mi impone una giusta questione che secondo me è molto interessante non la relazioniamo con il ragionamento odierno ma la voglio relazionare in senso lato con qualsiasi ragionamento Buonasera Matteo la tua domanda è lecita ma io la allargo e domando invece se siamo al giorno d'oggi in grado di creare nuovamente quella mostruosità e siccome è la tua domanda se siamo in grado di opporci ecco secondo me è molto interessante ed è un po' quello dove volevo portarvi io ovvero l'ho detto prima dopo 80 anni di costruzione di analisi di quello che è stato lo lo sterminio nazista che io non non chiuderei più lo studio più io ando a pensare che non non chiuderei soltanto con lo sterminio degli ebrei perché fra le tante vittime cioè ricordiamo anche gli oltre 3 milioni di soldati russi morti nei campi e milioni di persone morte oltre agli ebrei di lo sappiamo rom omosessuali oppositori politici eccetera cioè fu davvero qualcosa di incredibile naturalmente il gruppo più colpito fu quello degli ebrei e quindi è quello che ha sentito più l'esigenza di costruire un passato e di analizzare questa storia giustamente io credo personalmente però voglio sentire anche la vostra opinione che non sia più possibile lo dico con grande sincerità nel senso che siamo arrivati cioè siamo arrivati a quel punto lì ok perché ci siamo arrivati è stato lunghissimo io ho tentato un po' di ricostruire grazie ad alcuni video su Vanilla Magazine che vi suggerisco intanto vi suggerisco quello sui campi tedeschi in Namibia non l'ho ancora fatto però ho fatto un articolo qualche tempo fa dei primi campi inglesi in Sudafrica durante la guerra contro i Boeri vorrevo farla ma in questo mi farò aiutare da da qualche storico specialista del periodo vorrei fare un video su Rodolfo Graziani e sulle atrocità commesse dagli italiani in Africa cioè si è arrivati alla conclusione dell'olocausto ma non solo dell'olocausto della Shoah ma del metodo di esecuzione rapidi veloci per uccidere enormi quantità di persone perché è stato un escalation non è partita nel 1942 ma è partita molto prima e non è partita solo da Dachau naturalmente ma è partita da tutta una cultura che si stava creando circa fra la fine dell'Ottocento e appunto alla metà del Novecento l'antisemitismo ovviamente parte molto prima parte si dice parte dalla da quando arrivarono le epidemie di teste dove gli ebrei furono 1347 1348 dove in tanti casi gli ebrei furono accusati di essere loro i portatori della teste ecco chiudo qui oppure c'è chi dice l'antisemitismo parte da quando Gesù viene ammazzato sostanzialmente comunque il ragionamento è questo noi oggi dopo tutta questa storia che abbiamo passato dopo questi 80 anni in cui ci siamo detti mai più mai più una cosa del genere e peraltro ce lo siamo detti anche in un altro caso chi segue Barbero lo sa benissimo ce lo siamo detti dopo la prima guerra mondiale mai più mai più una cosa del genere mai più tutti quei morti mai più tutte quelle trincee e dopo vent'anni sì dopo vent'anni praticamente eravamo di nuovo lì a combattere però credo che il mai più della seconda guerra mondiale sia più significativo sia più significativo perché davvero c'è stata un'analisi c'è stata una costruzione proprio di questo di questa presa di consapevolezza di quello che è stato che è stato un orrore senza nessun effetto positivo per l'umanità che non potrà più essere perpetrato nei confronti di così tante persone per così tanto lungo e con il silenzio assenso di tutto il resto della popolazione questo lo dico ne sono personalmente convinto poi magari sbaglio e chissà però credo che non possa esserci una persecuzione nei confronti di un gruppo religioso etnico o politico di questo tipo un'altra volta nella storia io la penso così fatemi sapere cosa ne pensate Roberta dice e viva ci siete ancora come ho già detto prima nessuno di noi sa cosa avrebbe fatto è una situazione al limite della ragione umana Jacopo dice pensare che Himmler e Hitler avevano antenati ebrei poi è vero questo lo ricordo per esempio abbiamo assassinato Italo Balbo in Africa neppure il coloniatismo siamo stati capaci di fare sì peraltro Italo Balbo eroe no non ho portato sul canale ma sarebbero tante cose da portare che alla fine non le porto tutte andatevi a vedere come fu glorificato Italo Balbo per una attraversata trasvolata oceanica con gli idrovolanti ecco e poi dopo pensiamo a che fine ha fatto dice Andrea omosessuale testimone di Geova invallide ed etnie minori mamma mia vergognoso l'artefice quanti omosessuali furono uccisi sai che non lo so ecco questo è un numero che non conosco se me lo dite voi mi fate un piacere non l'ho mai non l'ho mai affrontato come a livello statistico non l'ho mai affrontato come studio Marisa Rossi come hanno fatto i delatori a vivere con la coscienza lurida ottima domanda secondo me ti giustifichi arrivi che ti giustifichi e dici vabbè ma se non l'avessi fatto avrebbero ammazzato me avrebbero ammazzato la mia famiglia come faccio nel caso ad esempio di Celeste di Porto è stata lei a denunciare alcuni familiari non so ecco strano sì Babilo la vita è sacra la vita di tutti la mia famiglia non ha mai denunciato nessuno anzi ha aiutato io farei altrettanto allora mi hai visto il film The Wave l'Onda sì e ho anche scritto un articolo sull'Onda sì molto molto bello Giuseppe se possibile dovrebbe fare anche un video sui giusti italiani che salvarono migliaia di ebrei verissimo hai ragione sono d'accordo infatti prima o poi andrà andrà fatto il video sui giusti vero Marilena mai più lo si dice ogni volta che ci sono innocenti che muoiono specialmente dai nostri politici poi però ci sono persone intere famiglie ammassate a confini in condizioni disumane ammazzate ai confini ok allora Roberta ci dà il dato sugli omosessuali la RAI dice che circa 7000 omosessuali morirono nei campi di concentramento tra esperimenti e atrocità allora dunque sì l'Onda è molto interessante è un esperimento per chi non lo conoscesse che ha coinvolto mi sembra un intero istituto se non ricordo male o una classe in cui un professore riprova a ricreare ma forse solo una classe le logiche del nazismo all'interno di un gruppo molto ristretto di persone sostanzialmente si arriva a ricreare la stessa logica ovvero in pochi giorni questo professore ricrea la stessa logica dove ci sono dei dei ruoli delle gerarchie che vengono immediatamente riconosciute e gli uomini forti si impongono nei confronti degli altri e quindi questo professore dice sostanzialmente che con questo suo esperimento era molto facile ricreare una logica nazista secondo me è abbastanza vero è abbastanza vero però che ormai se non sbaglio è un esperimento degli anni 70 non vorrei dire e sono passati la bellezza di più di 40 anni io non credo che adesso sarebbe riproponibile perché con l'info cioè sembra una sciocchezza ma tante persone riescono a ragionare in modo un po' più autonomo ad esempio ma non lo faccio non ne faccio un vanto pensiamolo in caso negativo in un caso negativo però pensiamo all'autonomia che abbiamo raggiunto il ragionamento vaccini c'è stata una parte della popolazione europea e in genere mondiale che non ha voluto vaccinarsi perché si è creato un pensiero autonomo questo pensiero autonomo effettivamente va al di là della logica e quindi dico questo pensiero autonomo nei confronti del nazismo poteva cioè ci porta a mettere in dubbio tutto quanto ci viene detto quindi anche un nazismo oggi verrebbe messo in dubbio secondo me un po' di più rispetto a quello che era una volta giacopo Matteo ne pensi in Italia non ci fu un processo tipo no non ci fu il processo di Nuremberg e come ho detto prima un vero problema perché secondo me non abbiamo preso coscienza di quello che è stato davvero l'antisemitismo in Italia non è stato non solo l'antisemitismo naturalmente però le colpe per esempio perché il nome di Rodolfo Graziani non viene mai fuori e non è conosciuto no perché non si conosce tutto quello che fece Badoglio e Badoglio ce lo ricordiamo solo per l'8 settembre 43 perché ecco credo che questa cosa cioè andrebbero davvero affrontate poi magari le possiamo affrontare con i canali youtube ma non siamo noi a dover parlare ecco cioè perché non ne parlano ne parlano perché a scuola io non ho mai studiato Rodolfo Graziani come è possibile che io sia arrivato in quinta liceo e non abbia studiato Rodolfo Graziani mi sembra secondo me paradossale mentre invece conosco benissimo i nomi di Himmler Goering Hitler Reinhard Heidrich eccetera secondo me è un nostro problema molto italiano ecco intanto da buonanotte a Luigia perché ha gli occhi che si intrecciano anch'io fra un po' direi che potrei andare a letto che domani levataccia con il video Rosa Spina dico la mia purtroppo credo che se la rigirassimo in un certo modo ci ricascheremmo in fondo basta convincere le persone di essere nel giusto questo sono d'accordo io ribadisco secondo me allora vi lascio con un pensiero finale sì no leggo qualche altro commento perché mi sembra che ci sia qualcosa di interessante penso questo lo voglio leggere Maria Esa Rossi ingenuità e ignoranza non tutti gli ebrei erano ricchi questo è importantissimo ed è proprio ed è proprio capire quanto la realtà sia più sfaccettata dal luogo comune dello stereotipo che ci consente poi dopo di apprezzare e di capirla meglio ecco di capire meglio la storia nei ghetti abitavano anche i poveracci l'idea dei ricchi è delatoria allora leggo il post di Emanuele perché va contro quello che ho detto quindi come sapete vengo sempre il mio contraddittorio purtroppo non la penso come lei in quanto se non supereremo lo stato del diverso e di creare una identità universale senza più confini l'animo infimo dell'umanità creerà sempre dell'odio esatto Andrea bravissimo Badoglio lo fanno studiare con l'armistizio ma non dicono nulla Badoglio è stato subdolo ovvero nessuno ne parla dei generali italiani sì infatti secondo me questo un po' è stato frutto anche di come dire del fatto che non abbiamo avuto un processo un serio mea colpa dopo la seconda guerra mondiale ecco allora vi lascio con qualche considerazione finale premesso che chiaramente non possiamo sapere che cosa avremmo fatto nel caso ci fossimo trovati nel ghetto ebraico non solo di Roma ma di moltissime altre città europee in cui vendere i propri amici vendere i propri parenti vendere i propri cari o se fossimo stati dei cittadini italiani in quel periodo lì non sappiamo cosa avremmo fatto mi fa pensare che alcuni di noi si sarebbero comportati semplicemente come si sono comportati coloro i quali erano all'epoca erano sono stati protagonisti di quelle storie all'epoca così come altri si sarebbero comportati in modo diverso quello che penso farebbe oggi la differenza sono gli 80 anni un po' meno probabilmente perché penso che sia in circa 40 anni più o meno che si costruisce questa identità europea contro la Shoah e contro gli orrori ma contro gli orrori della seconda guerra mondiale sicuramente da prima però che c'è davvero uno studio così capillare a livello giornata della memoria eccetera non è tantissimo sono 40 anni 50 anni non è da subito che si iniziò questo processo qui io credo che però che questo periodo qui sia un periodo sufficiente ad aver fatto un po' cambiare ad aver cambiato la mentalità delle persone e quindi penso che oggi saremmo condizionati da questa creazione di questa identità contro gli stermini e contro gli orrori di cui sono stati capaci i nazisti ma non solo i nazisti perché se vogliamo anche i delatori italiani che cosa avevano da invidiare fra virgolette ai tedeschi che consegnavano agli ebrei non c'era niente nulla di differente era soltanto la nazionalità faccio però in questo caso una precisazione Anna von Deich che fu uccisa nel 1948 e che consegnò diversi tantissime persone alle SS no non alle SS scusate all'SD se non ricordo male non sbaglio con le sigle che poi Roberta mi manda i messaggi su Instagram e mi cicchetta perché sbaglio questo piccolo come dire questo dietro le quinte di Vanilla Magazine dove io vengo cicchettato dagli autori perché sbaglio con le sigle o le date giustamente fanno bene a ricordarmelo però ormai l'ho detto e comunque la differenza fra Anna von Deich che consegnò tante persone e poi fu uccisa e Celeste di Porto che a Roma consegnò tante persone anche lei e non fu uccisa io rimango dalla parte dello Stato italiano che non uccise la delatrice Celeste di Porto cioè rimango contro la pena di morte e anche in questo caso qui perché è una cosa della quale non ho parlato prima però rimango assolutamente cioè è qualcosa che mi solleva il sapere che non sia stata uccisa perché credo che giudicare una persona una donna ebrea nel 1943 costretta a consegnare i propri corregionari e che si è rovinata tutta la vita da sola condannare la morte sarebbe stata un'ulteriore tacca nel numero degli ebrei morti a causa della seconda guerra mondiale penso che invece il perdono sia davvero la soluzione per non ripetere questi errori non la morte ma il perdono e io so che sicuramente questa mia affermazione causerà diversi commenti contro quello che sto dicendo ma io sono completamente sono proprio convinto di quello che dico aggiungere un altro morto alla conta dei 6 milioni non ha senso una giusta prigionia una giusta espiazione della pena questo sì chiaro ma non non ha avuto senso credo uccidere Anna Von Dijk al suo posto chi di noi in piena coscienza chi di noi al suo posto può dire che non avrebbe fatto uguale io non lo posso dire posso immaginare nella mia testa che è diverso che sarebbe stato diverso ma non lo posso dire e questo mi fa pensare che sì posso applicarle la massima pena ma non certo la pena di morte detto ciò penso che sia possibile una nuova seconda guerra mondiale sia possibile un nuovo olocausto una nuova seconda guerra mondiale secondo me sì ci siamo peraltro andati molto vicini con la guerra fredda anzi molto molto vicini che uno stermino di una di una popolazione di un credo di un particolare credo religioso oppure di una minoranza etnica sia ancora possibile io non lo ritengo realistico se non altro nelle zone Europa naturalmente America occidentali diciamo anche sicuramente la Russia che ricordo se andate a vedere i grafici dei morti russi vedete tipo che ne so Italia fra quelle che hanno perso meno persone meno abitanti mi sembra 600.000 ma qui gli storici mi aiuteranno mi sembra circa 600.000 morti in seguito alla seconda guerra mondiale poi vedi le altre nazioni arrivi alla Germania che se non sbaglio attorno ai 5-6 milioni di morti poi dopo vedi la Russia che schizza in alto con non voglio dire una castroneria ma un intorno di 20 milioni di morti qualcosa del genere ecco io credo che la fascia occidentale la Russia ma penso anche oggi oggi e non prima con la dittatura comunista di Mao la zona Cina comunque l'Oriente non credo che uno sterminio etnico di questo tipo sia possibile perché c'è stata davvero una costruzione una presa di coscienza da parte delle persone di quelli che sono diritti di tutti che non vogliamo veder calpestati neanche negli altri questa forse secondo me è la più grande eredità della seconda guerra mondiale diritti che siano uguali per tutti detto ciò non lo so magari in Africa che è una situazione politica storica decisamente diversa magari sta succedendo oggi e stanno morendo milioni di persone e noi non lo sappiamo in realtà non siamo sicuri a quanto so no però ecco potrebbe succedere io credo che nella nostra fascia di politica sia impossibile però non si può mai sapere personalmente naturalmente mi auguro che non succeda mai più niente neanche di simile e quando mi paragonate la dittatura sanitaria con la dittatura nazista davvero fate ma lo dico bonariamente cioè è un errore veramente pazzesco cioè che non ha fondamento storico non ha fondamento ma anche solo intuitivo non c'è un fondamento nel dire che quello il periodo che stiamo vivendo adesso è paragonabile anche solo in minima parte al periodo che hanno vissuto i nostri nonni e per altri bisnonni e per altri propri genitori che hanno vissuto fra il 33 34 e il 45 non è proprio paragonabile quindi per favore non facciamo più questi paragoni impegniamoci tutti affinché la memoria di questi eventi terribili ci consenta di non rivederli mai più e di non vedere mai più nessuno costretto di fronte a un ufficiale che gli intima di consegnare altre persone sui conoscenti manteniamo la memoria affinché questo non possa mai più accadere io vi ringrazio per essere con me tutto questo tempo abbiamo fatto una live da quasi 1 ora e 35 quindi una bella live lunga vi ringrazio tutti vi auguro buonanotte domattina alle 8 non alle 9 non alle 6 voglio vedere chi viene a a vedere fra i primi il video vi dico sarà un video lo dico già sarà un video abbastanza impegnativo a livello emotivo però io penso molto interessante ci abbiamo messo molto molto tempo a farlo e io mi sono impappinato un sacco di volte perché faceva un bel freddo però non vi spoiler o nulla vi dico domattina alle 8 pronti bene buonanotte a tutti e a presto grazie a tutti Grazie.